Easy go Cassandra, non ti vedo da quando mi hai condotto alle rovine di Ulisse Odessa, ti ricordi? Come potrei dimenticare? Mi hai detto di vivere la mia vita e di preoccuparmi meno della grandezza di qualcun altro Pare tu stia seguendo il mio consiglio Ho dovuto occuparmi di mio padre che è malato Perciò no, non ho ancora potuto vivere come vorrei Ho conosciuto molte persone Ma tu sei la più bella che abbia mai incontrato Davvero? E tu sei una piacevole distrazione dai miei problemi Mi hanno detto che sono un'ottima distrazione Avrai sicuramente un letto che possiamo usare Vai subito dritto al punto, eh? Ora vedrai come arrivo al punto Lo farai di certo Quindi che ne dici? Mi piacerebbe, ma prima devo procurarmi un paio di cose per mio padre Se mi aiuterai, forse potremo continuare la conversazione più tardi Sono qui per darti una mano Cosa ti serve? Delle erbe della valle di Re Lelego, qui vicino Mi serve anche una miscela del mercato da combinare con le erbe Un mercante la tiene da parte per me Tuo padre è così malato da non permetterti di andare a cercarle Sono la sua unica figlia Preferirei stargli vicino nel caso peggiorasse Sai che cos'ha che non va? No, so solo che non migliora Spero che la miscela e le erbe gli allevino il dolore Resta con tuo padre Tornerò con le erbe e la miscela Tutto a posto con le erbe e la miscela Le hai con te, vero? È questo che ti preoccupa Ci hanno appena attaccato Dovresti averci fatto l'abitudine Queste terre sono piene di banditi Cosa diceva la lettera che stavi leggendo? Che stavano cercando te Non me Non ci posso credere Pare che centri la tenuta di tuo padre Probabilmente vogliono eliminarvi entrambi per requisirla Potevo morire Senza essermi fatta un nome Non sarei mai diventata nessuno Nessuno rovinerà quel bel volto Non c'è gloria senza dolore? Perché non mi porti dentro e non mi infliggi un po' di dolore? Oh, lo farei volentieri Ma queste notizie... Qualcuno vuole uccidermi Come posso ignorare una cosa del genere? Quindi? Che si fa? Abbiamo un compito Pensa a quello che vuoi Ma posso dimostrarti qual è la verità Mi serve solo il tuo aiuto Non mi sorprende Quando vorrò aiutarti te lo dirò Vuoi scoprire la verità su quello che sta succedendo? Ovvio Lo sapevo Sai già che mi stanno cercando Voglio avere le prove del perché lo stanno facendo La verità viene sempre a galla Lo farà E finalmente potrò seguire le orme di Ulisse Le storie di Ulisse non dicono anche che era un amante straordinario? Dici? Deve essermi sfuggito Forse potremmo... Cioè... Come ti dicevo Ulisse era un grande amante Wow! Pensavo che fossi una persona più diretta E sicura di sé Volevo provare qualcosa di nuovo Parleremo ancora di... Noi Quando tutto questo sarà finito Ma prima la nota che hai trovato era del capo della Megaride Devono esserci delle prove di ciò che vuole fare Se esistono delle prove saranno a casa sua Allora va Troverò le prove che cerchi Bene, voglio che questa faccenda abbia fine Hai idea di cosa devo cercare? Il capo è l'uomo più potente della Megaride Non posso accusarlo finché non avrò prove sufficienti contro di lui Mettiamo che io trovi le prove che ti servono Cosa farai? Le mostrerò a chiunque mi dia ascolto Il capo non oserà uccidere me o mio padre Quando tutti conosceranno i suoi piani Mettiamo che io trovi le prove... Tornerò con delle prove Qualsiasi cosa troverò È semplice stabilire se Odessa sia nel giustunno Eccoti! Spero tu abbia buone notizie Prima di fare sul serio Perché non ci divertiamo un po'? Apprezzo il tuo aiuto Ma non sono sicura Credevo ci fosse qualcosa tra noi In certi momenti ho avuto anch'io quella sensazione Ma non ne sono sicura Concentriamoci sulle cose importanti Dopo ciò che ho scoperto So come stanno le cose Ebbene Non meriti tutto questo Vuoi solo vivere la tua vita Proprio così Non ho fatto niente di sbagliato Voglio solo che mio padre stia bene E partire per il mio viaggio Potrei farlo dopo che ce la saremo spassata un po' Apprezzo i tuoi tentativi Dimmi, stavolta cos'è che mi manderai in estasi? Questa è una cosa che devi provare Assolutamente Mostramelo Avevi ragione Sperimentarlo è stato molto meglio Che sentirne parlare Visto? Allora è tutto Suppongo che non ci sia altro da fare Non deve essere un addio Perché non ti unisci al mio equipaggio? Beh, mi hai sempre supportato E inoltre sarà bello andarsene da qui Ottimo E tuo padre? Grazie a te ora sta molto meglio Non temi che qualcuno vorrà fargli del male Condividerò con un po' di persone le informazioni che hai trovato Non gli faranno niente finché le avremo Allora sarò felice